post partita una finale persa proprio ai tempi supplementari le tue impressioni ma è stata una bella gara ce la siamo giocata fino all'ultimo solo che poi ai tempi supplementari la stanchezza ti è fatta un po' a sentire mi è calata la squadra nel finale e ha segnato oltre a due però dai sono contento un buon secondo posto come prima volta che partecipavo quindi è andata alla grande sei stata la rivelazione di questo torneo essendo la prima volta che entravi nel circuito di questo fifa e quali sono state le due impressioni rispetto alle due potenzialità ma vabbè tutta gente molto forte tutta gente molto forte che gioca fifa è stata lunga il tragitto fino alla finale quindi mi sono scontrato con tante persone appunto che stanno giocare e mi sono divertito il livello altissimo e alla prossima ti senti qualcosa al al vincitore è stato un grande ha vinto 3 a 2 quindi alzo le mani grazie grazie a tutti